La Lega di Battipaglia interviene sulla questione delle addette alla pulizia del Comune, da tempo costrette a fare i conti con stipendi molto al di sotto della media. Una situazione più volte messa in evidenza dalle stesse lavoratrici che, stando a quanto afferma Fabio Butrico, responsabile della Lega nei rapporti con l'amministrazione, potrebbe avere una via d'uscita molto semplice. C'è stata una premessa quattro anni fa dove purtroppo abbiamo avuto dei seri problemi perché è stata data questa gara alla Consip che poi è stata data in appalto ovviamente alla Romano Gestione e in subappalto alla SAP per finire. Abbiamo proposto, perché loro stanno prendendo degli stipendi miseri, 120, 130, 140 euro al mese, abbiamo proposto in più di un'occasione, abbiamo avuto anche un incontro con la Sindaca, per fargli presente questa cosa e di proporgli a lei in modo molto semplice, siccome lei aveva fatto una delibera comunale a gennaio del 2018, di allargare lo statuto di Alba e quindi inserendo anche la pulizia dei beni patrimoniali, oltre ad altre cose, le avevamo proposto di farle passare nel 2021 a scadenza di questo consiglio, di questa gara con la Romano Gestioni, di farle passare direttamente o con Alba o con una società che sarebbe capitanata sempre da Alba stessa. Dando una garanzia almeno nel futuro a queste persone per poter lavorare in modo sereno e tranquillo, oltretutto faceva anche, secondo noi faceva anche due cose positive, cioè metteva soldi in Alba che ha problemi di liquidità ed è consaputa da tutti, lo sappiamo tutti quanti, però appunto assumeva anche delle persone a lavorare e quindi toglieva questo disagio enorme alle lavoratrici che sinceramente là ci sono persone che sono 30 anni che lavorano sul comune e fanno le pulizie e arrivare dopo 30 anni e passare da un milione e mezzo di lire nell'82 con la cooperativa Labor Sud da 130 a 140 euro al mese mi sembra un attimino un po' che è esagerata come situazione. Tecnicamente è un'operazione fattibile quella di far assorbire da Alba le lavoratrici che attualmente operano nella cooperativa che lei prima ha indicato? Allora, loro hanno più di un modo, oltretutto Alba è partecipata a 100-100 per il comune e quindi lei anche con una cooperativa in capo sempre ad Alba potrebbe assumere queste persone a scadenza contrattuale, ma lo potrebbe fare anche Alba stessa, nel momento in cui è stato dichiarato con delibera comunale, come dicevo prima, l'ampiamento dello statuto dove ci sta anche la pulizia dei beni patrimoniali, si potrebbe tranquillamente farlo anche con loro perché abbiamo dimostrato che con lo stesso preventivo e con gli stessi soldi che si danno alla Romeo Gestione si può tranquillamente pagare queste lavoratrici e mettere anche un po' di liquidità in Alba, nelle case di Alba che ne ha bisogno.